Allora, mi è stato chiesto dalla nostra Presidente Angela di fare così, ma benvenuto all'Arciresco, l'abbiamo fatto già in modo bellissimo, vi faccio un applauso e inizia il canto del nostro soprano. Allora, mi è stato chiesto dalla nostra Presidente Angela di fare così, ma benvenuto all'Arciresco, e inizia il canto, in cui vivi e 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 vivi Trossi Cristo Cristo Santa Maria Santa Maria Maria, Maria, non aprono nobis, nobis mercatoribus, non nemo, non nemo, non nemo, non nemo, non nemo, Tu sei la forza, canale purezza, sei la speranza del cuore mio Tu sei la pentezza, non ho l'eserza, tu sei la mia vita, non ho l'eserza Tu sei la pentezza, non ho l'eserza, tu sei la pentezza, non ho l'eserza Tu sei la pentezza, non ho l'eserza, tu sei la pentezza, non ho l'eserza Tu sei la pentezza, non ho l'eserza, tu sei la pentezza, non ho l'eserza Tu sei la pentezza, non ho l'eserza, tu sei la pentezza, non ho l'eserza Tu sei la forza, sei la mia canta, è buona il primo sangue, tu sei la forza, sei la mia canta, è buona il primo, Non sei la gente che sa, non è poco semplice Non sei che io non so, non mi mi trovo Grazie. 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 Grazie.